Mentre il trono classico di Uomini e Donne volge al termine, quello over si fa sempre più interessante e inaspettato. Tra coppie che scoppiano e coppie che si formano, il pubblico, ormai da tre anni, ha puntato l'attenzione su un personaggio piuttosto controverso, Sossio Aruta. Il 50enne napoletano, ex calciatore professionista, ha dato molto di cui parlare con le sue storie travagliate. Ora, però, anche la padrona di casa, Maria De Filippi, sembra essere stanca delle sue manfrine. Se non sei interessato a nessuna donna, allora non iniziare nemmeno, le ha consigliato infastidita la conduttrice di Uomini e Donne. Il sospetto di Maria e del pubblico in generale è che Sossio si stia prendendo gioco delle varie dame. L'ultima ad essere finita nella sua trappola è Chiara e proprio con lei, per non presentarsi ad un appuntamento, si è inventato una scusa. Cosa deciderà di fare la conduttrice di Uomini e Donne? Darà un ultimatum a Sossio?